Dopo una piccola pausetta, che per voi non c'è stata... non c'è nessuna pausa, però state vedendo semplicemente un altro video, per me c'è stata una pausa, ma la cosa mi è nuova? L'ho preso? Sì. Ok. Molto bene. Voglio fare un quick save rapido. Ok. 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 Non. Ok. No. Nooo. Stanno arrivando quelli sbagliati. Ok. Ok. Mi lancio la canata. E quick save. Ok. 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 Non si stanno ancora aprendo? Ma è il boss? Come regalo di compleanno mi faccio il finale di Sirius Sam O se riesco a finire questo gioco, poi vince la Juventus che ha top 10 con Gleandri Certo, manca la figa, però quella mancherà per sempre nel mio hit Se contare la Juve a Sirius Sam Che devo fare? Io scappo Non è che scappi poi per così tanto Alla fine Ma io non capisco se devo affrontarlo lui O no? Perché vi giuro non mi è chiaro Devo affrontarlo Ma io ho salvato davvero qui Non gli ho tolto un cazzo, capito? Allora, io sono il leader che fa i salutaggi in punti di Magda ma questo è tanto anche per me E? Ok? Ok, bene Allora si bestemmia Ok Poi non esplode una Ma non gli sto facendo io Non gli sto facendo io Ottimo Prema E' ok 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 No 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 Capito? Vi rendete conto che io non posso battrelo? Col pompa Col pompa Cioè non è... Io posso saltare Non è che... Ragazzi senza cannoni A coltello A coltello No Sì la faccio molto serenamente Non ho modo di vincere Con questo respawn qui Attenzione A soltanto lo faccio io Lo Ho ho? Ok Ma Non Non oh non oh non oh non oh no Pito Anche Va bene A me non credo di dover abbattere lui E' decisamente troppo più forte Cioè io al massimo Infatti posso concentrarsi tutte le mie forze su lui No vera, è impossibile Oh, io ho trovato il robot E' lo so più pronto del mondo E no, ti capisco Ok Ok Ho questo Ma perché? Ok Ma che è quelli con Ok Ok Io ti tiro la razzi Non è che posso fare grandi cose Quale è che non Ti ho capito che Non ti stanno facendo un cazzo Ok 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 io cosa posso fare? oh mio dio da qua ok io non posso fare niente qui se non no che non gli ho fatto così nulla ok ok vai no no merda l'ho già preso il ok ok va bene tipo io potrei anche riscendere no? ok 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 vai ok allora e il problema è evitare tutta sta merda ok 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 un po' comunque no non voglio dire niente non voglio dire nulla ok 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 no l'ho sbagliato io ok 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 dai 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 ok 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 l'ho lisciata l'ho lisciata ottimo no questo ok 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 poi potrebbe tranquillamente non essere lui il boss finale potrebbe aspettarmi potrebbe aspettarmi tipo un mega mosco gigante come si è capito davanti non ce l'avessi ok 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 no che non ti culi amico mio fidati che non ti culi amico mio fidati che non ti culi ok 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 no 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 si sta curando davvero tanto eh io però non è che posso avvicinarmi così tanto capito ok ok ho fatto la cazzata io? no non è bene, andava tutto bene ok 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 poi dovresti cambiare infetta l'arma oh mio dio non ce la farò mai vado sparando ok ok si ma ma ok 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 io non so come come abattere non lo so più che ok non lo so non lo so non lo so non lo so allora il punto è qua ok cioè io qui devo fare qualcosa devo inventare qualcosa non lo so 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 Non posso fare nient'altro perché io manco a spararti con questo perché magari un minimo i danni così ti arrivano ok No, duvito il mio osso, dai Tu rimani rosso? Il problema è uno e adesso lo fanno rimanere rosso e anche fa sì che ci scenda lo arrivi sotto e rosso, capito? Ok 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 Nooo Ok Me l'ha fatto comunque il Ok Well Ok ok posto ok eh no non ce la faccio, non ce la farò mai senza uno scudo non ce la farò veramente mai non gli spacco io togliendo nulla, ottimo ok ok 8, l'unico è il cannone però non è la fine no molto ma io non vedo niente altro per curarmi poi aspetta però lì c'è una porta aperta ok non è che io sto in realtà sprecando il mio tempo e non devo sconfiggerlo ok 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 se facessi così posso andare senza sconfiggerlo? per ricapire se quello era il boss finale oppure no sembrerebbe di sì però non ho le possibilità di sconfiggerlo forse è evoluto però vediamo ma credo si possa sconfiggere però ok 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 l'astronauta coperta bellissimo, via, spegni subito c'è una parte dentro l'astronauta? n'è sicuramente l'asenlinco n'è anche il campo c'è la scuola la scuola va a fare una scuola Grazie a tutti. E pensiamo nella prossima parte.